Si è chiusa la prima fase della procedura di attuazione del piano di sviluppo e riorganizzazione della società Acqua e Terme di Fiuggi. Alla data del 31 luglio scorso sono pervenute otto manifestazioni di interesse da parte di aziende operanti nei settori primari richiesti per la partecipazione alla procedura di consultazione. Il comune attualmente sotto la guida del commissario prefettizio Francesco Tarricone ha avviato infatti un percorso di valorizzazione di ATF. Non è ancora la vendita vera e propria anche se è quello l'approdo finale ma codice degli appalti alla mano una consultazione preliminare di mercato per sondare l'interesse degli operatori verso gli asset in pancia alla società controllata al 99,8 per cento dal comune. L'iter per la verità era già stato avviato dalla gestione precedente ma con il commissario Tarricone che sta lavorando in stretto raccordo con l'avvisor Silloc e l'amministratore unico di Acqua e Terme Fiuggi SPA il progetto sta entrando nel vivo. L'obiettivo è di individuare la migliore soluzione per lo sviluppo e rilancio della società. Una volta sondato il mercato il comune valuterà poi le sollecitazioni pervenute e procederà a predisporre il bando per la gara europea entro la fine dell'anno. ATF gestisce lo stabilimento di imbottigliamento e commercializzazione dell'Acqua Fiuggi, le terme costituite dalla fonte Bonifacio VIII e dalla fonte anticolana e infine l'asset golf che include il campo da golf da 18 buche, la clubhouse, la piscina e la futura struttura polivalente di servizio. Tre tasselli che il comune con il supporto del mercato vuole potenziare potendo contare su numeri importanti per le attività oggetto del percorso a cominciare dall'acqua oligo minerale nota per le sue proprietà specifiche depurative e curative che vanta oggi circa 27 milioni di litri distribuiti sui mercati nazionali ed esteri e che ha chiuso il primo semestre dell'anno segnando un più 14 per cento delle vendite rispetto allo stesso semestre dello scorso anno. Tra le altre voci figura poi anche oltre al campo da golf e alla clubhouse anche la palazzina ex centroconi che fa parte di un progetto già finanziato per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svago e il benessere e tra gli asset su cui dovranno esprimersi soggetti potenzialmente interessati c'è anche il nuovo centro congressi palafiuggi in corso di ultimazione da parte del comune che non rientra però nel perimetro di ATF. Entro il 4 settembre prossimo dovrà concludersi la seconda fase mentre la seduta riservata si svolgerà entro la metà di settembre 2017.